In auto vi faccio vedere cosa sta succedendo via Legoito, arrivano i pompieri, le macchine svecciano che è una bellezza, ecco qua i pompieri in diretta, come lo facciano non si sa, qualcosa è dentro l'arma, c'è la croce rossa che arriva, sono tutti in movimento ma qua sembra una roba abbastanza complicata.